voglio parlarvi oggi di una versione particolare del nuovo si master diver questo qui è una versione in titanio titanio brunito guardate la cassa come è lavorata rispetto alla versione semplice in acciaio e due millimetri più grande rispetto al si master diver di serie un orologio che già nella sua versione standard è estremamente aggressivo sportivo un orologio professionale di grande sostanza in questa versione di titanio brunito l'orologio si esalta assolutamente quindi diventa veramente uno strumento professionale oserei dire hard duro un orologio veramente estremamente maschile e aggressivo questa qui è una versione con un cinturino in cauccio ma viene proposto anche una versione con il cinturino nato ma questa è sicuramente la versione più giusta di questo orologio bellissima anche la ghiera in ceramica nera che fa appandante col quadrante nero che è l'unico colore possibile per questa per questa versione di titanio l'orologio l'unica nota dolente che risulta molto più costoso rispetto alla versione normale ma d'altronde i contenuti tecnici ci sono la lavorazione del titanio è un titanio grado 5 a differenza di molti orologi di titanio che poi in realtà montano casse con una lega di titanio qui abbiamo un titanio purissimo quindi estremamente leggero e resistente molto bello il fondello che lascia ammirare la solita meccanica straordinaria tradizionale di omega cinque anni di garanzia per questo orologio a denotare proprio una una classe tecnica di un altro livello rispetto alla concorrenza grazie a tutti Grazie a tutti.